Ciao ragazzi, sono Nico e benvenuti in questo prossimo video e siamo ancora qui su Dishonored Definitive Edition quarto episodio, alleati nascosti, vediamo un po' cosa dobbiamo fare siamo qui con questo vecchio che non mi ricordo come si chiama, Bernard mi pare comunque vediamo peste, va bene ah, ma do la mia schiena, scricchiola, penzola, lezza, vabbè, grande Nico eh, grazie sti cazzi ne uccidiamo tutti di porto a conoscere l'amiraglio Hevlock Hevlock sono a me mi pare proprio da una persona di colore Hevlock Lady Emily intanto io vorrei capire chi sono quelli quei fantasmi tipo che ci hanno attaccato nel primo episodio ok andiamo vabbè indizi della missione Samuel che è Bernard dove cazzo mi è venuto Bernard vabbè qui non so se si possa esplorare qualcosa lo faremo poi vediamo un po' mettiamo qui ok non è nero l'amiraglio va bene vabbè l'uomo del giorno è qui visto ma questo mi pare uguale a quello dell'inizio almeno fino a quando il lord reggente non ha cacciato chiunque non riconoscesse il suo diritto al trono io sono lord pendleton nel nostro gruppo rappresento la nobiltà ma siamo tutti uguali all'ound of his part va bene abbiamo creato un gruppo di realisti percorri fine alla tirannia dell'ordine gente e restaurare il trono al rischio della vita vogliamo trovare la giovane Lady Henry e farla incoronare l'imperatrice si cioè a 10 anni volete farla imperatrice ci serve il tuo iodo la tua abilità aiutaci e distruggeremo chi ha assassinato l'imperatrice va bene devi essere esausto e riparleremo quando avrai riposato pure a volte è sfiancante ma con la testa che ha può permetterselo Piero Fabienne si Piero è un tecnico e un artista creerà l'equipaggiamento che userai vada lui e poi riposare immagino per di qui ok ecco Piero creerò per te armi ed equipaggiamento tutto personalizzato per te creerò gli strumenti del perfetto assassino grazie mille si proprio così il serbatoio d'olio di balena è vuoto ma vai di sopra prendere un altro serbatoio mentre io rimango qui attento l'olio è instante ma ti pareva ok io lo farei esplodere ma non sono così stronzo avvicinalo perfetto eh dammo che l'ho fatto frate ok lì c'è qualcosa che mi interessa tu sei ricercato quindi tutti in città conoscono la tua faccia questa maschera oddio questa maschera sta nella copertina del gioco è fantastica deve combaciare perfettamente ok riesci a vedere no la lente centrale non è allineata patto va meglio posso creare altre cose potenziare l'equipaggiamento armi munizioni ma la situazione è disperata cerca oggetti preziosi in città li rivenderò sul mercato nero e reinvestirò i profitti per creare quello che ti serve va bene fammi cercare un po' eh vediamo cos'hai ok ho tante monete proiettile dardo narcotizzante granata che cazzo è sto ti permette di modificare i circuiti e effettuare i sistemi di sicurezza attualmente si consuma dopo l'uso allora prendiamoci qualche dardo qualche proiettile una mina per creare una troppa una min ok ok va bene così poche parole dobbiamo mirare e si sfrantumerà ok potenzialmente ok precisione con la balestra interessante acquistiamo questo va bene eh sarebbe stato molto utile anche questo va bene per ora così io ti consiglierei di riposare wow ma grazie troppo gentile frate eh dov'è la mia stanza ok mi fai raccogliere che c'è qui dentro ma c'era madonna c'erano le cose da leggere me le fai leggere o no va in un altro luogo interessante molto preciso questo gioco ok continuiamo voglio una ragazza per il mio personaggio non vorrei che qualcuno fraintendesse guardando il video ok apriamo qui eh ma ok devo andare su ma le mie armi dove sono boh ma intanto già corriamo più veloce ma che corvo la tua vita è cambiata vero? si lo so sono il protagonista questo ti ho scelto e ti ho trascinato nell'oblio io sono l'esterno questo è il mio simbolo esistono forze potenti questo è un altro mondo forze che gli uomini chiamano magia e ora queste forze saranno al tuo servizio questo è interessante controlla questo potente è il mio dono per te grazie bro ora mi sono scordato come ti chiami oddio grandissimo qui è traga tutta non puoi salvarla non puoi salvarla oh porca miseria grande nico subito i primi fail con il teletrasporto ma dai io che ne sapevo no vabbè non possiamo iniziare così dai ok ricaricati mana mana ricaricati sono molto triste sono molto triste dicono che sei morto come la mamma io però non ci credo quindi fiderò questo messaggio una bottiglia da gettero nel fiume qui la vita è molto strana non mi piace adesso per favore vieni a prendermi se puoi si ma potresti anche dirmi dove sei comunque andiamo avanti ma porca miseria no vabbè che nabbo che nabbo ok guarda guarda lo sto fio di puttana qui minghia qui si questo niente ok l'esterno ok siamo arrivati eh mi chiamo nico frog ok queste rune ti garantiranno poteri preclusi agli altri uomini questo mi plazza minghia grazie bro troppo gentile ascolta e trova un'altra una ah ma ti dice anche dov'è grande ok il cuore i suoi segreti minchia fighissima aspetta mi sa che devo entrare qui dentro cadi ok chi è che parla ci non è meglio se andiamo qui dai ok eccola qui una volta raccorto apri il diario e venne alla sezione di poteri per scambiare altri poteri le lune possono essere raccorte e usate per ottenere nuovi poteri solo naturali ok transazione ottieni visione oscura si vedete i muri va bene questa è interessante ok dai frate che sta durando troppo st'episodio grazie così chiude l'episodio va bene ok se vi è piaciuto questo video come al solito lasciatemi un becco commento iscriviti al canale per oggi è tutto ciao a tutti